Ciao a tutti, sono Fox e benvenuti e bentornati in questo quinto episodio della carriera allenatore su FIFA 16 con il nostro Newcastle. Non prendiamo gol da tanto tempo ma ora tocca all'Ester, una squadra che si difende benissimo e parte in contropiede come noi, fa pochi gol ma ne subisce ancora di meno. Vedremo come andrà la partita e se riusciremo a portarci avanti in Capital One Cup. Qua non mi interessa, non lo guardo subito, voglio vedere, Gud ci chiede di giocare ma non penso proprio che giochi, hanno anche recuperato i nostri giocatori quindi andiamo a giocare e basta. Ok, nuvolosa la formazione con cui andremo ad affrontare l'Ester, ha un po' di riserve visto che c'è Krul, Aydara, Jamerson, Benba, Toure, Vinaldum, Sergi, Samper se non vado errato, Orighi, Perez, Sissoko e Dumbia. Ma andiamo a giocare. Benvenuti a tutti ragazzi e ragazzi al King Power Stadium di Leicester dove si apriranno a Leicester e Newcastle. Sono due squadre ostiche, ostiche perché hanno una gran difesa e un attacco che non segna troppo però è molto cinico. Liam Moore, un giocatore che era praticamente nostro ma abbiamo preferito a lui Tonelli visto che è già pronto per fare un campionato da primatista. E qua vediamo una formazione con Vardy in attacco e il resto sono buoni ma avrò potuto mettere una formazione migliore. Attenzione subito a Vardy, Vardy, Vardy! L'uscita di Krul. Attenzione a Simpson che la gioca, a Okazaki che va da Vardy! Cosa ha preso Krul? Stavo già dicendo gol del Leicester, però Krul ha fatto un paratone, mamma mia. Che è in difficoltà, lo attacca Dumbia. Attenzione all'erroraccio di Simpson, Dumbia. Dumbia ha chiuso da Shlup. Poi Dumbia ricoprira di nuovo palla. Shlup è velocissimo, mamma mia. Davvero male, non me l'aspettavo così in difficoltà. Ora però Sergi Samper vada al Mami Touré. Che passa, Touré! Leon Moore mura la conclusione e la manda in calcio d'angolo. Stiamo facendo fatica ad attaccare. Vinaldo, me la butta in mezzo, un bembo! Schwarzer! Poi Origi anticipato da Simpson, mamma mia però. Il nostro centrale ora però attenzione a Okazaki. Può andare a Okazaki, palla al piede. Okazaki! Gol! Terzo gol subito in questa stagione dal Newcastle. Il contropiede è con Okazaki che è partito e non si è più visto. 1-0. Attenzione, Origi deve recuperare su James. Poi Okazaki la gioca di là, Vardy. Palla buona per Olbrighton che va da Amarty se l'è divorato. Vince il duello il nostro difensore. Ora attenzione a Sissoko. Rientra. Sissoko. La gioca a Dombia! Schwarzer! Ora attenzione. Dyer, Haidara è caduto. Non so come. Poi Vardy. Il cross in mezzo. Siamo scopertissimi. Attenzione, Olbrighton chiuso dal Mami Touré. Fortunato ha ancora Olbrighton. La gioca Okazaki. 2-0. Doppietta di Okazaki. Stato di grazia del Leicester anche nel gioco. Purtroppo nel gioco, per fortuna nella realtà, finisce qua al primo tempo. 2-0 Leicester. Stiamo facendo fatica. Abbiamo fatto sei partite senza prendere gol. E adesso l'abbiamo preso. Purtroppo. È così il calcio. È questo. Dobbiamo fare dei cambi. Poi Jamerson. Cosa ha sbagliato? Il ruraccio di Jamerson. Vardy se ne va. La gioca Okazaki che può fare la tripletta. Ma Krul fa un paratone. No, però questo non lo potete fare. Dai, cazzo. Non potete fare una cosa così anti-calcio. Siete all'Ester. Piuttosto continuerebbe ad attaccare anche se... Hanno già perso due minuti del gioco lì alla bandierina. È finita. Abbiamo perso la seconda partita di questa stagione. 2-0 con l'Ester. Brutta partita. Abbiamo giocato male, 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 male. Malissimo. Non abbiamo meritato per niente. Usciamo meritatamente dalla Capital One Cup. Dobbiamo riprenderci adesso però perché c'è il Chelsea. Poi se non sbaglio c'è il City. Sono due partite davvero molto difficili in cui dobbiamo riprenderci la nostra cazzo di posizione. Siamo costretti a mettere Aydar a terzino sinistro perché non abbiamo... Cioè Almami Turi è stanco e sta giocando male. Aydar è un po' più fresco e può far bene. Cioè spero faccia meglio di come ha fatto il suo compagno di reparto. Benvenuti a tutti ragazzi e ragazze. San James Park di Newcastle dove si affronteranno Newcastle e Chelsea. In questa partita valevole, se esiste come parola, per la prima posizione della Premier League. Il Chelsea ha più uno sul Newcastle e vuole difendere proprio quella prima posizione a cui ambisce il Newcastle. Almeno per fare i punti che servono per salvarsi o per arrivare in Europa League. Intanto che va, lasciamola andare questo campionato. Andiamo avanti così e facciamo del nostro meglio. Adentro i titolarissimi il Chelsea. Attenzione ai Dara, non riesce a recuperare. Allora c'è Tonelli. La messa, la messa. Via quel pallone. Via quel pallone. Via quel pallone. Quanto abbiamo rischiato? Ora Bazoer cambia gioco. È buono il pallone per Sissoko. Sissoko prova ad andarsene sulla fascia ma deve fermarsi. Non c'è nessuno che si fa vedere. Si fa vedere adesso Bazoer. Il che vede il taglio di Mosi Simon. Col destro! Cosa ha parato Courtois? Era già per terra. Che riflesso ha avuto? Mamma mia che parata. Abbiamo cominciato bene però. Vinaldum la butta bene in mezzo per Malcom. Pedro sulla linea. Seconda occasione nitida per noi. La butta in mezzo. Il colpo di testa di Malcom ha da allontanare ma non c'è nessuno al limite. William si contende la palla col suo compagno di squadra. Poi Krull con una palla che non aveva visto partire. Vediamo se la tengono in campo. La tiene in campo Zuma. La palla arriva fortunosamente a Pedro. Poi Matic. Riesce a saltare Vinaldum. E ad andare da William. Che può calciare William! Palla fuori. Ora Kamanò perde brutalmente il pallone. Diego Costa viene rallentato e non riesce a fare il taglio. William! Papera di Krull. 1-0 Chelsea. Mi sembra giusto. Kamanò ha munito senza un motivo devalido. Ora Omtiti. Vada Bazouer. Non si fa vedere nessuno. Mi ha anche laggato. Bazouer! Palo! Poi il pallone è rimesso in mezzo. Perché Manobaba anticipa tutti. Perché lagga? Guardate! Ti fa! Vinaldum si accentra molto bene. Matic. Perché non riuscite a superarli? Non è che Matic sia così veloce? Che... No, no. Sono lenti. Non hanno voglia di giocare oggi. Poi giustamente io faccio un'entrata. Regolarissima. Quello là... Mette il piedino. L'arbitro mi spelle Vinaldum. È giusto. Finisce qua. Il primo tempo. 1-0 per il Chelsea. Paperissima! Di... Paperissima! Di crudo mi sono dimenticato anche di mettere i sostituti. Guardate che coglione che sono. William può andarsene in velocità. Sumtiti lo chiude alla perfezione. L'ex centrale del Lione. Poi Sisoko. Torna da Sumtiti. Sono andati a puttana gli schemi. Non c'è più nessuno dei miei giocatori in posizione. Sisoko non fa una sovrapposizione decente. Però attenzione al pallone recuperato da Umtiti. Sisoko. Vede Malcom che cerca e trova. Simon! 1-1! Il gol di Moses Simon! Una palla che è passata a culo. Ma siamo stati sfortunati fino adesso. E ci siamo meritati il gol del pareggio. Ce lo meritiamo. Un'ora di gioco. Sisoko. Vede Malcom. I nostri giocatori non ci sono più. Cioè... A centrocampo ci sono quando vogliono. Esterni ci sono quando vogliono. Stiamo facendo una fatica terribile a giocare palla. Però dobbiamo vincere la sta partita. È un'occasione incredibile. Attenzione a Sisoko. Chi vede largo Townsend? Townsend! Può andare in contropiede. Attenzione in aria. Townsend! Va col sinistro quanto ci ha messo! Ci ha messo 27 anni! È una stagione di Beautiful. Beautiful! Si soccove dello scatto di Arons. Prova a servirlo in profondità. Arons, grande controllo. Non me lo sarei mai aspettato da te, piccolino. Arons ora. Ancora Arons. Arons. Rentre in aria, Zouma! Finisce qua la partita contro il Chelsea. Finisce qua la partita tra un incasso del Chelsea. Uno a uno. Purtroppo dopo aver giocato decisamente meglio una partita con l'uomo in meno per un tempo, non siamo riusciti a portarci la casa. Moses Simon sta giocando davvero male. Secondo le statistiche era la pari, però potevamo portarla a casa normalmente, tranquillamente. Abbiamo amministrato il gioco noi. Dovrebbe salire la Shell e è diventato un 70. Finalmente la Shell è un 70. E dovrei anche tornare a farlo giocare. Però ben by Tonelli stanno giocando davvero, davvero bene. E siamo arrivati a ottobre. Partita importantissima anche col City. Che se non sbaglio avrà recuperato qualche posizione. Non è vero, non è vero. Andiamo a giocarla e basta. Cioè, non possiamo perderci in chiacchiere qua. Dobbiamo giocare e aprire i culi. Punto. Benvenuti a tutti. Ragazzi e ragazze all'Ethia di Stadium. Dove si affronteranno Manchester City e Newcastle. Che maldischia. Newcastle ha rallentato molto in questo periodo in una settimana. Ha fatto un pareggio e una sconfitta. Prendendo sempre gol non riesco più a parlare. Il City ha fatto la metà dei nostri punti. Però noi dobbiamo tenere il passo del Chelsea. Quindi dobbiamo vincere sempre, sempre, sempre. Ci siamo giocati la partita in cui potevamo superarli. Attenzione all'errore di Zabaletta. Moses Simon sbaglia il controllo. Si socco, però, lo serve in profondità. Moses Simon gli tocca a palla a Collaro. Va ancora Moses Simon. Riesce a passare. Poi viene chiuso, ma... Lui anche se gioca male ha delle occasioni. È per questo che devo tenerlo in campo. Buono il cross in mezzo per Dumbi. Anticipato da Cavaliero. Poi Moses Simon l'appoggia. A Malcom! Cavaliero la blocca. Sterling porta ancora palla. La tiene, la mette. Io non ho parole. Cruel, che cazzo fa? Ha fatto miracoli fino adesso. Non abbiamo preso gol per un episodio intero. Penso sei partite di fila. Adesso fa una papera su Aguero. Fa una papera su Willian. Hai rotto un po' il cazzo, però. Quattro gol in tre partite. Non ci sta. Riesce a tenere palla. L'amministra bene. Poi Dumbià. Trova Simon. Che salta all'uomo. Simon! Compagni Dumbià! Palo! È il secondo palo che becchiamo. Poi Sergi Samper. Prova lui a giro! Che tiro di merda. Prendi la Dumbià! Corri! Sei negro! Devi correre! Dai, ho sbagliato il controllo! L'avete guardato mentre se l'aggiustava. Qua Boni colpisce la Shell. Che poi fa una stronzata. Ma riusciamo lo stesso a ripartire. Mosissimo! Che cazzo fa! Non stoppa più un pallone! Non lo controlla più! Dov'è il possesso palla magnetico? Qua Marco recupera la palla. Dumbià. La dà in profondità. A Sissoko che si fa recuperare da Zabaleta. Ci prova lui. Che zè! Ma che cazzo di tiro è? Dai! Ma io non ci credo. Fisce qua al primo tempo. 1-0 per il City. Partita di merda. Noi abbiamo giocato a sprazzi. Li abbiamo dominati a sprazzi. Loro hanno fatto un tiro. Hanno segnato naturalmente. Però Sergi Samper in questa partita non va assolutamente bene. Vede lo scatto di Dumbià. È buona la palla per Dumbià. Dumbià! Palo! Di nuovo. Ora la Shell si fa anticipare da Guerro di testa. Grande un Titi. Ma che cazzo vuol dire? Che lui mentre si gira riesce a darla in profondità a Boni. A caso. Dai. Dai. Vuoi la manina? Vuoi la manina, Orighi? Porco. Ma mi spieghi come cazzo è possibile che te lo metta in culo quel coglione di Boni? Dai. Ma va a fa' in culo, va. Come cazzo fai ad avere i piedi così storti al Mami Tour? È un passaggio. È un passaggio di merda. Un fottuto passaggio di merda. Adesso noi da qua tiriamo perché mi sono rotti i coglioni di Dumbià che non riesce a centrare la porta. Manco se gli puntano una pistola nel culo. Contro questi qua abbiamo perso. Una squadra di merda. Non hanno fatto tre passaggi in fila. Nei miei e i loro. Solo che loro. Eh no eh. Eh eh. Noi, noi siamo il Manchester City. Noi dobbiamo vincere. Ho beccato due pali in una partita. Sono riuscito a far salire Orighi. Praticamente ho sbagliato. Ho cliccato per sbaglio. Inizio allenamento. Quindi adesso simuliamo tutto il resto. Visto che non mi interessa. Questo è un pezzo di joystick. Che bello. È salito anche Mosi Simone. È salito anche Buzziver. Quindi qualcosa di buono in questo episodio c'è stato. Adesso andiamo a vedere il Chelsea che ha vinto. Ma eccolo là. Quattro punti. E adesso io direi che è ora di andare a giocare. In casa nostra contro il Norwich. Vediamo di recuperare i punti che abbiamo perso per strada. Hanno battuto l'Ester. Hanno battuto. Non mi ricordo che altra squadra. E speriamo bene. Inizia bene con l'ammunizione di un TT e il gol di Pinto. Pinto però Vinaldo un pareggio. E spulso un TT. Perché? Perché sei stronzo? Sì! Dun via 2 a 1. Purtroppo prendiamo di nuovo gol. Però siamo riusciti a vincere. Con le palle di fuori. Grazie al gol di Dumbiai. Eccetera. Adesso siamo a quattro punti dal Chelsea. A uno dallo United. Siamo scesi di una posizione. Penso che l'episodio sia durato abbastanza. Spero che vi sia piaciuto. Nonostante i pochi gol. E i troppi gol subiti. Comunque in caso vi sia piaciuto. Vi invito a mettere mi piace. Mettete mi piace. Commentate. Iscrivetevi. Mettete mi piace. La pagina Facebook come al solito. Qua sotto in descrizione. E noi ci vediamo. A un prossimo video. Ciao a tutti.